Non inizia nel migliore dei modi né il girone di ritorno e nemmeno il nuovo anno per la Battipagliese che ieri ha incassato 5 reti dal Valdiano. Seconda malita consecutiva dopo la trasferta di Cervinara, eppure il primo tempo, nonostante la Battipagliese passi subito in svantaggio, era a carico di occasioni create dalla Zebra. Al secondo minuto del primo tempo tiro da fuori aria di Siciliano che batte Gravagnone, all'undicesimo risponde la Battipagliese con un tiro di Troiano da fuori aria, la palla esce di poco. Al quarto dicesimo campione riceve palla al limite, si gira, tira Robertiello e devia in angolo. Al trentatresimo raddoppio di Valdiano, Sorriso batte punizione, Gravagnone esce male e la palla si insacca. Al trentatresimo Robertiello fa una gran parata su punizione di Guerrera. Inizia il secondo tempo, al nono terza rete, Valdiano della Femmina batte un calcio di punizione che sorprende ancora Gravagnone. Al venticinquesimo quaterna Valdiano, Maiocco appena entrato, cross per Alatri che di testa insacca. Al trentaseiesimo Petriccione tira da venticinque metri, Gravagnone devia la palla nella propria porta. E al quarantaseiesimo, gol della bandiera della Battipagliese. La palla arriva a Contieri che se la alza di tacco e poi realizza il volo.